ciao sono francesco d'andra e sono un avvocato penalista in questo video ti do un mio consiglio in 60 secondi è più conveniente patteggiare o fare il processo allora non c'è una regola fissa sappi però che patteggiare significa ammettere di aver commesso il fatto ed accettare la condanna in cambio avrai uno sconto di pena fare il processo invece significa poter controinterrogare chi ti accusa e cercare di sbugiardarlo se vuoi pareggiare e portare il risultato a casa allora dovrai patteggiare se invece vuoi tentare di vincere e dimostrare la tua innocenza allora dovrai fare il processo